Dal 22 ottobre al 12 novembre, Conf Cooperative e le banche di credito cooperativo del Friuli Venezia Giulia promuovono un percorso formativo rivolto ai docenti ed educatori sul tema dell'educazione finanziaria. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del programma del mese dell'educazione finanziaria, iniziativa promossa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che si svolge a livello nazionale. Il percorso formativo in quattro incontri online proposto da Conf Cooperative vuole fornire non solo conoscenze teoriche ma soprattutto strumenti pratici per poter inserire i contenuti trattati nella didattica di tutti i giorni. I webinar sono rivolti ai docenti delle scuole di ogni ordine Grazie a tutti.